E così lo vedemmo volar via, trascinato nel venico, frenando appena la corsa del pallone e sparire verso il mare. Siamo a tre settimane dall'esame di scuola media, ma lei è sicuro di farci? Sì, preste. Quadra, chi va a rubare? Va a faticare. Dobbiamo togliere le perle, porci. Molli a tre settimane dall'esame, tiene tutto sufficienza. Io ho già faticato. Tu sei brava. E' il figlio di Paolo Brusciani. Hai parlato con tua madre? Sì, ma purtroppo. Non ti posso nascondere sempre. Io sono restato a dormire qua questa sera. Ma a caso sta tua fratele che ti aspetta? Ma chi mi aspetta a me? Chi mi aspetta? Devi tirare una distanza. E come si fa? Tu lo sai come si fa. Noi stiamo dalla stessa parte. Se stiamo dalla stessa parte, allora affidatela a me. E dove lo metti? Nella biblioteca dove avete organizzato il vostro circo. Secondo me ci siamo pronti. Voro so' forte, ma le famiglie hanno paura. Ogni tanto non ti vedi che te la voglia d'andartene. Allora, tu non la vedi, io invece sì. Che cosa? La bellezza. 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 La bellezza.